Gentili telespettatori, buona giornata. Arriva alla pagella all'Italia dal britannico settimanale economico The Economist e dice che scrive proprio nel titolo che Giorgia Meloni ha smentito gli scettici ma ora deve fermare l'immigrazione clandestina e rilanciare l'economia andando oltre i soldi del PNRR e dice che fra tutti i paesi europei l'Italia è quello che desta meno preoccupazione e così secondo l'analisi di questo giornale economico tra i più famosi al mondo dice che l'Italia fra tutti i paesi europei è per una volta fra quelli che destano meno preoccupazione. Ma aggiunge le maggiori sfide del suo governo risiedono soprattutto nel futuro. Deve trovare un modo per frenare l'immigrazione illegale se vuole tranquillizzare i suoi elettori e spendere i soldi per la ripresa più velocemente se vuole con piacere Bruxelles. Soprattutto dice il giornale britannico che in più occasioni non era stato tenero con i governi italiani in particolare quelli di Berlusconi. Aggiunge il governo ha bisogno di adottare una strategia per la crescita che vada oltre il semplice apporto di denaro proveniente dall'Europa. Se non riusciamo ad aumentare il tasso di crescita dice Francesco Giavazzi ex consigliere economico di Mario Draghi saremo nei guai. Perché aumentare la crescita significa aumentare il PIL. Se aumenti il PIL puoi contrastare il debito pubblico. Se aumenti il PIL si aumenta la ricchezza, aumentano le entrate fiscali e si contrasta sempre, come vi dicevo prima, si contrasta appunto il debito. Ma se la crescita non c'è ti ritrovi solo da pagare il debito con gli interessi e senza la crescita quel debito non scende e poi c'è il patto di stabilità che ti dice che lo devi fare scendere per forza. Ogni anno di 10-15 miliardi ci devi mettere i soldi a capitale. Pertanto capite che se il paese non cresce siamo nei guai, saremo nei guai. Quindi quello che dice Francesco Giavazzi ex consigliere di Mario Draghi è assolutamente vero. Con un PIL per esempio che cresce dello 0,6% quest'anno e il governo aveva previsto l'1,2% c'è uno 0,6% di PIL che manca all'appello e quel buco, quei soldi che mancano sono un bel problema. Perché adesso bisogna cominciare a vendere, privatizzare per cercare di fare cassa da qualche parte. Perché il paese non ha la possibilità di stampare denaro. Tutto può essere fatto solo ed esclusivamente a prestito o tagliando le spese, ma non si sa più dove tagliare, o vendendo dei pezzi di tali agli stranieri per fare cassa. È come se uno si vende un terreno che ha lì a 10 chilometri da casa perché deve utilizzare quei soldi per vivere. Ecco, l'Italia vende dei pezzi di paese per avere dei soldi per andare avanti, perché mancano dei soldi nel PIL che non cresce come le previsioni. Poi l'Economist parla del primo test dell'opinione popolare alle elezioni del Parlamento europeo. La Presidente del Consiglio, Giorgia Mela, unispera in un andamento positivo dei dati sulla crescita che verranno poi pubblicati la prossima settimana. Come mi evidenzia sempre l'Economist, la Premier ha assunto il suo mandato in una fase in cui la ripresa dell'economia duramente colpita dalla pandemia era destinata ad esaurirsi e ha dovuto affrontare nuovi eventi contrari, in particolare la crisi energetica causata dalle guerre. E per la Meloni poi c'è da affrontare il dossier migratorio. Il dato degli sbarchi della rotta del Mediterraneo è salito a 157.000 l'anno scorso, un aumento del 50% rispetto all'anno precedente, il 2022. E così, dice il governo, ha deciso di affrontare seriamente la questione, l'ha riportata in Europa, al centro del dibattito europeo. Ma il giornale inglese dice per il resto che la Meloni è sempre più al comando della scena, perché la sua coalizione a un'ampia maggioranza rimane unita, nonostante alcune divergenze che ovviamente ci possono sempre essere, le ultime incentrate, le ultime divergenze sulle candidature, sulle regionali, ma fa capire che questo giornale sono delle cose che realmente lasciano il tempo che trovano, sono delle scaramucce che ci sono tra partiti differenti che, in vista delle elezioni europee, cercano di coltivare il proprio orticello, ovviamente. Meloni peraltro può contare anche sui rapporti positivi con gli alleati, ecco, della Nato. L'Italia ha garantito un sostegno ai paesi che sono sotto attacco, sono belligeranti, un appoggio piuttosto moderato a Israele e poi ha consentito e anche reso possibile il continuo arrivo dei soldi del PNRR, pertanto lì si pensava che l'Italia non riuscisse poi a ricevere questi soldi perché non è mai stata in grado. La storia italiana racconta che non siamo mai riusciti ad avere, cioè non ad avere, a spendere i soldi che l'Europa ci ha sempre mandato, abbiamo dovuto rimandarli sempre indietro. Bene, naturalmente poi l'economist dice, beh, insomma speriamo che si riescano a spendere correttamente questi soldi, un obiettivo che dovrebbe essere accompagnato da una serie di riforme strutturali e si punta sempre sulla produttività. Il settimanale economico britannico ricorda come il governo si è ripetutamente intervenuto nel tentativo di limitare l'impennata dei prezzi su alcune rotte aeree e di imporre una taxa sugli extra profitti delle banche dove la banca poi ha scelto di non pagare questi soldi ma di ricapitalizzare. Quindi da una parte è stato detto alla banca o paghi questi extra profitti paghi una tassa oppure se non ci dai questi soldi li metti in ricapitalizzazione, quindi le banche italiane forzosamente sono diventate più forti perché quegli utili extra invece di distribuirli ai soci sono stati messi per rafforzare il capitale societario. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.